A volte tornano, è tornato Enrico, Enrico terzo, perché Enrico primo è scomparso per una pallonata, Enrico secondo invece è colpa mia perché era qui proprio nell'angolo, io ho alzato questo, è andato, è rimasto decapitato, Enrico terzo però è il degno erede di una lunga dinastia che ha avuto anche nelle papere, a volte avevamo anche delle papere, le papere sono sparite però, sono altre due nel cassetto qua, le trovate? Ah eccole, eccole lì, però ne ho due qui, non ne mettiamo due qua, facciamo così, Via Novelli si arricchisce nell'edizione Strong, eccola qua, con due belle paperelle, e i ragazzi del Federici che oggi ci sono. I ragazzi del Federici che è un piacere qua perché hanno preparato per la gioia di Paolo dei meme e allora li vediamo, tra poco vedremo i meme, vediamo subito chi ha presentato i meme, possiamo dare il microfono all'ammastro di meme che, ciao come ti chiami? Mi chiamo Veronica, mi chiamo Veronica proprio tutto attaccato, mi chiamo Veronica, Veronica grazie mille, Veronica ha un senso dell'umorismo diciamo convenzionale che piaccia a tutti oppure ridi solo tu quando fai le battute, come capita a me peraltro. In genere non sono una ragazza che fa le battute, nella nostra classe gli addetti alle battute sono Ilaria e Pezzotta. Ah, sono proprio come Ale e Franza, Ilaria e Pezzotta, abbiamo Ale e Franza, Ilaria e Pezzotta, allora qui dobbiamo inquadrare, vediamo Fè, alzino Mario, Ilaria e Pezzotta, sono Ilario, tu? Ah, e Pezzotta come cognome però, Ilaria e Pezzotta, di nome Pezzotta, di cognome? Pezzotta, Pezzotta, sono due come, allora siete voi due, vi chiedo allora come, però non mi hanno fatto fare i meme, no però sono due battutisti loro, ho capito, grazie mille, dopo vi metteremo alla prova, vi mette, no no, Pezzotta dice no no no, vi prego, ci sarà da ridere, lo diremo noi, però tu sei perciò una ragazza triste, no, no, assolutamente no, la tristezza non fa parte proprio di me, di te, va bene, però conosciamoti anche meglio, cosa fai oltre a studiare, hai qualche hobby, fai cabaret, no no no, suono in una banda da dieci anni, suono il clarinetto, ma il clarinetto è quello, non è il clarinetto traverso, no no, quello è il flauto traverso, ma che mi si sono scandalizzati, hanno perso due anni di vita perché pensavo, so che si chiama flauto traverso, era tutto una cosa televisiva, Paolo e Mattia e Nicola, sai che è brutto lavorare con i musicisti, perché è solo, se non sai quello che sono loro, sei proprio un po' sfigato, è un po' così da, io invece la penso come Oscar Wilde, che diceva che i musicisti sono esseri stranni, ti vorrebbero perfettamente muto quando tu vorresti essere perfettamente sordo, specialmente quando suonano loro, ma in questo caso tu suoni il clarinetto, che è quella cosa che è anche arbore, il legno d'ebano, nero, ah caspita il legno d'ebano, che è lo stesso legno perciò del pianoforte, perché no, eboni, sono i tasti del pianoforte, sono di ebola, di ebola, no perché evidentemente eboli and ivory, la canzone di, vedi che è il sonno? and ivory, live together in perfect harmony, è giusto, sono i tasti del pianoforte, Paolo hai mal di denti, no, no, tutto bene, hai mal di denti, grande momento di cultura musicale, dieci anni sono tanti, non ti annoi? No, perché comunque ogni lezione o anche ogni prova alla banda si impara sempre qualcosa di nuovo, poi è una bella, è la banda è bella perché si fa compagnia comunque, esatto, un gruppo molto diciamo, coeso, molto affiatato, li vogliamo nominare, non tutti uno a uno, ma che banda è? È la banda ai Giovani di Credaro, è i Giovani di Credaro, casp, facciamo un applauso ai Giovani di Credaro, anche al mio paese c'è la banda Santa Cecilia, hai trovato il cacivio, ma hai, dà fastidio a volte per le labbra suona, come la tromba, oppure non dà fastidio, non hai problemi? A lungo andare magari il labbro fa un pochino male, ci senti un po' il fastidio però è questione di abitudine, non ci fai caso, non è un dolore, ok, magari un pochino di fastidio, senti che magari i denti lasciano il senso, il labbro non è... Ah, ma non, pensi che i denti cadono invece no, ma sei un agenzista di quelle che fanno, sai quel carinetto fanno quelle, si chiama jam session, quelle cose, no, quando improvviso, Paolo è disgustato, Paolo è disgustato da me, che faccio le domande semplici, oh, quando si improvvisa, come si chiama, non fare il superbo, parla con noi popolo, noi, plurale, come andò si improvvisa, come si chiama? Jam session, vedi che allora perché bella faccia schifata come se dovessi dire, è giusto è, tu fai da solo, magari quando sei improvvisi, da solo nella tua stanzetta, oppure no, sei lì già, guardi lo spartito? Decisamente guardo lo spartito. Tu invece chi è? L'altro che preparavi meme chi è? Ari tu eri, che suoni invece? Niente. Niente, niente. Come ti chiami? Lorenzo. Ciao Lorenzo. Ciao. Tu sei, cosa fai d'altro oltre a... Gioco a calcio. A calcio, che ruolo? Centrocampista. Ah, centrocampista, che tipo di centrocampista? Sei un incursore, un cristante? Eh sì, c'è uno che piace salire. A salire? Che non c'è tanta voglia di tornare. A quest'anno? Sale, poi non scende. Sale, 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 ma federatamente. Hai segnato quest'anno? Sì, sì, sì. Ah sì, quanti gol più o meno? Sette. Sette gol sono tanti e se giocassi in Serie A sarebbe rotta. Dove giochi tu Lorenzo? Alla scuola del mio paese, Albano. Albano? Che categoria è? Quest'anno è stata in prima categoria. Ah, in prima categoria. Però tu giochi juniores o già... Beh, quest'anno è ancora allievi, l'ultimo anno e poi l'anno prossimo juniores. Juniores. E tu sei uno invece... Ti piacciono i meme, di solito? Cioè, sei uno che ride quando hai meme oppure le due ti fanno? No, 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 rido, rido, rido. Ah, ridi di meme. Quali ti piacciono di più, di solito? Quelli che fanno le facce tipo Messi, così? No, quelli un po' più lavorati, concettuali. Ah, lavorati? Sì, sì. E tu vai bene a scuola? Ti piace studiare? Sì, sì, studio tanto, tanto. E le... Sono uno dei migliori da casa. Ti piace studiare come ti piace tornare a aiutare i compagni a centrocampo. Diciamo che la stessa... Esatto, dai. Un po' con i simili tutti e ci siamo. Va bene, allora vediamo subito i primi meme, poi dopo conosceremo ancora i ragazzi di Federici che avremo con noi tutta una settimana. Che bello, eh? Anzi, due settimane avremo con noi. Ma che bello, eh? Vediamo allora il meme di oggi. Via. Quando la prof ti interroga e tu non avevi studiato? Ho i problemi a casa. Eh, bella questa, eh? Paolo. È... Ah, ho capito. È quello che schiacci. Ma... Ho i problemi a che schiacci quella. Bene, cominciamo bene questi meme di questa settimana. Grazie Lorenzo, grazie Veronica. È meglio che continuate a giocare a calcio sull'alcabinetto. Tra poco torneremo ancora con Via Novelli in social crowd. Grazie mille. Grazie mille. Bravo, applausi. It's a beautiful day. Eh, 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 eh. Sono felici. Le cui, le cui, le cui, che non è una parolaccia, le cui abilità poliedri che mi affascinano, perché sanno fare un sacco di cose, sanno tra l'altro anche fare questo. Qui ho bisogno di un total. Guardate cosa ho trovato. Ma ti rendi conto? Ma vola dagli. Giorgio vola? Ma vola benissimo. Vuoi provare a tirar lui in testa? Sì. Adesso Nicola farà vedere un total così posso far vedere perché, attenzione, ti prendo la mucca. Guarda. Eeeh. La mucca? Gli hai dato dalla mucca? No, volevo prendere la mucca che invece sei arrivato su una bellissima ragazza. Allora lei. Colors, Bereton, grazie mille. Che si chiama, tra l'altro? Io Letizia. Io Letizia, però di nome, io Letizia, che non è io Letizia. Letizia, grazie mille Letizia. Possiamo fare un costo-costo dalla Letizia, dalla curva su, dalla curva su, dalla curva su. Allora, Letizia. Letizia, dichiara, dichiara qualcuno che vuoi prendere. Metti bene la punta. La punta. E poi la, che vuoi colpire. La punta. Sistema la punta. È un Mirage. Sai che i Mirage avevano la punta un po' più arcuata. Attenzione. È entrata completamente. Letizia, da chi vuoi andare col tuo piccolo jet? Dichiari Marco, che è l'autore. Vai, vediamo se vada. Autore scarso, vai, fa niente. Grazie comunque a Letizia. Grazie anche a Marco, che è lui l'autore. Marco, grandissimo Marco. Eccolo qui Marco. Complimenti perché hai fatto veramente un piccolo capolavoro. mi sono un po' stessato. Non sei l'unico a avere dell'abilità. Abbiamo anche qui Zaccaria, pessimo cameraman. Ma abile, abile a realizzare, a completare, con tutte le facce a posto, il cubo di Rubik. È un cubo un po' slavato, un po' con colori giusti. È giusto, è original. No, non è original. È tarocland. L'original è nero con sui bollini attaccati, quello proprio stile anni nostri. E invece questo è new. È new, con la new. Proprio new, G-N-U. Lo te lo consegno. Nicola adesso farà partire il nostro cronometro. Oh, fermo. Imbrugna. Fermo via. Non stavo mischiando di più. Eh, eh, eh. Pronti? Via. Finito. Ho sbagliato una mossa però prima. Perché ti ho visto. Io infatti ho visto, ho visto. Non ce la fa, non ce la fa. Sembrava Udini quando non usciva a ribarsi dalle catene, moriva annegato. E invece poi totà è finito. Paolo. Mi hai dato un'idea. Il prossimo lo facciamo a fare con una bolla d'acqua. Cioè con... Dentro la bolla d'acqua, se non lo dice, vuole. Sì. Se non vuole... Non fai un ascolto, eh. Eh, caspita. Non è l'unico, eh. Quando hai imparato a fare queste... Allora, ho... Prima vedevo video su YouTube di gente che faceva stravelocemente il cubo. Stravelocemente? Sì. Tipo 5 secondi, record mondiale tipo 4 secondi, 80. Ma come fanno 4 secondi, 80? È impossibile. E... L'ho comprato a ottobre e da lì ho iniziato. All'inizio facevo tipo 15 minuti. A marzo l'hai fatto? E poi ti sei velocizzato? No, ho cominciato a raggiungere tipo 5 minuti di tempo dopo una settimana e un mesetto dopo ho fatto il record di un minuto. E il tuo record? No, il mio record è 45 secondi, però non è così facile per raggiungere. Ma conta come ti viene presentato, perché qui noi abbiamo chiesto al nostro Paolo, detto in laido, di metterlo nella posizione che secondo lui era più complicata. No, in effetti, cioè, in verità, perché il primo passaggio per risolvere il cubo è quello di risolvere la faccia bianca, così per convenzione si inizia la faccia bianca e si inizia facendo una croce. E... si inizia facendo una croce e lui me l'ha facilitato perché già due pezzi erano a posto. Wow, che ocane! Allora pensavamo di metterlo in crisi, e gli freghiamo zattaria! E lui invece, per ripermerlo... E quindi, vabbè, ho salvato qualche secondo. Però, vabbè, il metodo che... perché ci sono vari metodi per risolverlo. Il tuo com'è? Il metodo Larsen? No, ho iniziato, quindi a ottobre, usando il metodo strati, che consiste nel risolvere uno strato alla volta, quindi il primo, il secondo e il terzo. Adesso sto usando il metodo Friedrich, che consiste nel risolvere i primi due strati insieme, e poi il terzo tramite algoritmi più complicati, ma una volta che li impari mnemonicamente, sono anche facili da fare. Chi non impara, a me non lo metto in algoritmo. Io ho guardato quello di Facebook, addirittura, quello di Instagram, non so tutto a memoria, però adesso non chiedimi, ripeto perché sono un po' stanco, però... complimenti però, Zac. Paolo, ti piace? Questo è il tuo mondo, eh? Cioè, il mondo di risolvere le cose. No, è bello, io ai tempi lo facevo, però forse non c'erano tutti questi metodi. Io mi ricordo che si faceva prima la faccia sopra, poi la prima striscia, poi la seconda, e poi io sulla terza mi sono fermato. Però non l'hai mai fatto? Quale in fondo è più difficile? No, sì, poi ogni tanto, a forza di provare, rischiare, in qualche modo sono riuscito a chiuderlo. Però, tecnicamente, gli ultimi movimenti non... Poi devi capire dov'è la faccia, qual è il cubo che si sposta da una parte, quale devi spostare, e lì poi mi sono un po' annoiato e l'ho lasciato lì. Complimenti però, Zac, perché ci hai dato una dimostrazione di abilità. Grazie mille al nostro Zaccaria, grazie ancora. E scende giù dal cielo, neve... Porta che è maggio, ma perché ho fatto questa canzone? Perché abbiamo Elena del Federici, di Elena. Anche Enrico ulula meglio di me, però ho tentato di fare una canzoncina perché tu sei una collezionista, una delle tantissime al mondo collezioniste, di palle che contengono la neve, quelle famose palle che guardi, che poi giri e fai... Giusto? Ne possiamo vedere già una qui magari, per far vedere a casa non hanno capito. Noi possiamo mostrare Elena... Eccola qua, Pisa subito. Elena, qual è il tuo disturbo? Mentale? No, scherzo. Elena, come è tenuta questa passione? Io scherzo. Ma come è tenuta questa passione Elena? In realtà non lo so, l'ho sempre avuta sin da piccola, io sono un amante dei delfini, uno dei miei primi figli. Ne hai trovati due dentro una palla di neve? No. E sono andata in Croazia in terza elementare, in vacanza con la mia famiglia e ho visto questa pallina di neve contenente due delfini. Ah, c'erano i delfini. Sì, e poi c'erano i brillantini rosa e da lì è nato tutto. Perché sei un po' una ragazza un po', capito, un po', quelle che hanno l'agenda, quelle proprio tutte curate, con tutte le... o no? Sì, abbastanza. Abbastanza. E allora hai cominciato lì, la prima è stata quella, è la numero uno, come la moneta di Zio Paperone. Hai la numero uno, è preziosissima. Ma dove le hai? Quanti sono innanzitutto? Allora sono 63, non tutte sono città, allora due sono, vabbè, una è un angioletto e una invece è di Babbo Natale, mi sono state regalate. Classico Babbo Natale. Esatto. È la morte sua, nel senso non di Babbo Natale, ma dico proprio quella di Babbo Natale con tutta la neve, d'accordo. Esatto. Però è... contenenti, cioè, raffiguranti alle città, sono 61. Alcuni doppioni che mi sono stati regalati. Tipo il doppione che possiamo cambiarli, forse. È... Firenze, Venezia, Budapest. Ah, o un Budapest, mi dai un'altra città che non ho, ti dà un Budapest. Esatto. Oppure le tieni, ormai quelle sono tue affezionate. No, in realtà a Budapest ho comprato la mia prima pallina, ho comprato la pallina, sono andata in un altro negozio, mi piaceva di più l'altra e quindi ho comprato anche l'altra. Perché è un po' come le calamite, che è un'altra cosa che va di moda. Tu le compri una e poi, caspita, altra bella, mannaggia, l'ha comprata subito. Esatto. Ma quanto costano le palline? Perché le calamite costano un euro, due euro, tre euro. Queste quanto arrivano? Quanto... Dipende. Allora, base partono ai 6-7 euro. Insomma. Sì. È una bella spesa. E poi in montagna capitano di trovare anche palline artigianali sui 20-25 euro. Tu, quella che costa di più? Ce n'hai una da 20-25 euro oppure sono tutte... Credo ce ne sia una da 30, ma perché proviene da paesi un pochino più distanti, in cui le palline sono meno... è difficile trovare le palline. Esatto. La neve che c'era dentro, non so cosa c'era dentro. La neve che costa nei paesi arabi. La neve costa di più nei paesi arabi. Esatto. Se compri la neve in Scandinavia a 2 euro, se compri la neve a Dubai sono 30 euro. La pallina è uguale ovunque, però la neve che costa. Però la neve a Dubai è mica facile. Infatti, quando mi hai detto Elena, collezione palle da neve, ho detto, ma come palle da neve si sciolgono? Dove le mettere nel freezer? Invece no. Hai conosciuto altre persone che hanno questa tua passione oppure sei l'unica? Allora, in realtà sono l'unica. Credo sia un problema mio. Quello ne so, parliamo pure con lo psicologo, tranquillo. Esatto. Ognuno ha delle collezioni, questo non fa neanche... E i tuoi genitori cosa dicono? I miei genitori, mio papà non le approva, diciamo che non gli piacciono per niente, e mia mamma invece è più come me, quindi guarda che carina, compriamola. Esatto. Invece che vedere Netflix, loro guardano le palle da neve, le mettono tutti in 63, le girano e poi guardano tutte, no. Ma invece è una bella, avere una passione comunque sembra una cosa interessante. Quando, cioè gli altri amici vanno e ti portano a casa, perciò ti conoscono ormai, ti portano una palla da neve? Sì. Dai, possiamo allora fare un appello anche in televisione? Chi va in queste vacanze, loro andranno via, andranno col bus, prenderanno una sua riina romagnola, ti portano a casa una bella, i tuoi compagni ti hanno regalato qualche volta una palla da neve o mai? Sì, in realtà Veronica mi era promessa, una dalla Polonia. Veronica, ho sentito gliela hai promessa, ma poi gliela l'ha portata. Certo, ovviamente. Ah, ovviamente, perché me l'ha promessa poi. È bella? Sì. È bella, da dove, da che città? Da Poznan. Questo invece... Possiamo, Giorgio, visto che abbiamo fatto un appello, innanzitutto capire da dove viene questa e questo è il quiz di oggi. È il quiz, il quizone. È questa, cioè... È il cammello a due teste, tra l'altro... Dai, chi lo sa di voi? Emirati Arabi Uniti, perché sono uniti i cammelli, è già per quello. Sbagliato. Chi ha altre risposte? Egitto, Egitto, Turkmenistan, ho sentito Turkmenistan? No, Snowball, ok? E viene da Oman. Dall'Oman? Sì. L'Oman è quel paese dove ha la bandiera non rettangolare, ma con i due triangoli, credo. È mica l'Oman che ha la bandiera, ma l'Oman è particolare, ok? Io farei il giro, Giorgio, in modo che se volete regalare sapete cosa non dovete regalare. Perciò tutti i 60, vediamo, un angolo... Un angolo noia. No, un angolo noia, buttatevi i telecomandi, mettetevi pure nella credenza dove avete la palla di neve. Facciamo veloci, però. Veloci, veloci. Pisa, ok? Casa di Giulietta, Verona, a questa parola non è il casa... Colosseo, ok? Ravenna, conosco, Siena, bella questa, San Marino, guarda San Marino è un po' storta, Bressanone con lo scarpone che fa anche rima, ok? Verona che non è la casa di Giulietta, non è neanche un doppio, perciò, ok? Babbo Natale. Esatto. Babbo Natale è anche un po'... Vabbè, a Bergamo gli ha fregato la neve. E dov'è la neve? È sparita. Si è sciolta. È caduta? Si è sciolta. A se sciolta. Bergamo neve si è sciolta, che tristezza. Ma andiamo a comprarne una poi pomeriggio e compriamo? Rimini, famosa Rimini, tanto faro di Rimini, dove è che è il faro di Rimini? Sardegna, con i quattro mori, San Gimignano, Assisi, voi siete velocissimi, Assisi due volte, un miracolo, Firenze, che è una doppia, Roma alla fontana di Trevi, ok? San Candido, Venezia, Venezia due volte, la gondola? Quella col presepe. È una natività, è un presepe, un piccolo presepe, Venezia un'altra volta, Madrid, Sevilla, Copenaghen, con la sirenetta di Copenaghen, e qui abbiamo Malaga, Malaga, Valencia, Amsterdam, tutti i nomi. Madrid, ma è stata rotta in aeroporto, quindi... Ma cosa c'è dentro? L'acqua oppure un liquido? È un liquido particolare. Corrosivo? Non credo. Ah, non credo, però... Cadice, ok, Barcelona, Barcelona... Formentera. Formentera, qui... Dalla Nuova Zelanda, chi ti ha portato dalla Nuova Zelanda? Un kiwi, tra l'altro, questo, che non è un kiwi, un animale. È mio zio, che viaggia spesso. Che non fa il kiwi, però, non è il mio zio. Ah, perché è lo kiwi, mio zio. E tuo zio è andato in Nuova Zelanda a portare a casa una palla di lieve. Sì, e anche quella di Oman. La maggior parte me l'ha regalata il buio. Sono lui, sono su, ha speso un capitale. Isbruck, München, Monaco, Budapest, eccola qua. Santa Cruz della Siviera, Bolivia, anche lui, è sempre tuo zio? Sì. Grande zio. E questo è un po' quando c'è qualche ragazzo così, un po'... e questa è la pallina ambient, che la mettiamo un po'... Questa viene dalla Birmania e quella è la roccia a loro. Birmani, che non siete altro. Dalla curva dicevano che questa è quella di Cernopi. Di Cernopi, bella però, eh? Questa è un po' quella di Cernopi, un po' quella della centrale di Homer Simpson, dei Simpson, dei Simpson, è questa qua, ok? Dalla Birmania viene? Sì. Ed è colorata. E questa invece è la lumaca? È ancora la stessa, solamente che... Ah, di giorno, quando non riluce. Ah, grazie, Paolo, che ci hai fatto vedere? Questa è prima e questa è dopo. E dopo, e dopo che si è, esatto, che è diventata Criptonite, Mallorca, Atene, Atene due volte, Paris, Parigi, Qatar, un po' di Qatar, Livigno, Montenegro, 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 Allora, con l'anno di Covo, col mitico Broletto e il Duomo. Grazie mille. Allora, Elena, e a tutte le tue palle di me. Grazie ancora, Michele Federico. Grazie. Grazie a tutti.